...fermata. Allora nell'episodio precedente avevamo visto che Beatrice ha divorato almeno il sogno il cuore di Dante, quindi ormai Dante non ha più il suo cuore, il cuore lo ha divorato lei e questo produce in lui una consunzione, vediamo che sempre lui quello che soffre quello che piange quello che si dispera non Beatrice, Beatrice mai e lui è come un pargoletto un pargoletto che si rifugia nella sua camera e piange e piange d'amore, qui è così si consuma che gli amici si impensieriscono, anzi si incuriosiscono, anzi lui dice che sono mossi da invidia e gli chiedono perché lui è così dimagrito e lui dice sì amore, per amore, allora loro gli chiedono per chi è questo amore e lui sorride e non risponde perché non intende mescolare il nome di Beatrice con le chiacchiere, con i pettegolezzi, i cittadini, ma avviene un fatto molto molto importante cioè un giorno mentre sono in chiesa e lo sguardo di Dante va verso Beatrice, in questa linea dello sguardo si interpone una giovane di assabella presenza dice lui, di assabella apparenza che pensa di essere lei l'oggetto di questo sguardo e non solo lei ma quando esce dalla chiesa Dante si rende conto che tutti ne parlano e che pensano finalmente di aver scoperto qual era l'oggetto d'amore di Dante e Dante decide di farglielo credere e di utilizzare questa donna come schermo del suo vero amore proteggendo così, ma questa storia lui dirà dura alcuni anni e mesi quindi voglio dire questo forse questo espediente che lui narra qui della donna dello schermo nasconde altre storie che Dante ha avuto e poesia che ha scritto per altre donne perché quello che importa Dante adesso è di creare questa impalcatura coerente un romanzo d'amore dalla puerizia come dirà fino alla morte di lei e oltre un romanzo d'amore per la sua Beatrice ma ecco volevo leggere alcune delle, siccome lo stesso Dante dice di aver scritto alcune cosette per questa donna vorrei leggerne alcune di queste cosette lei forse si chiamava Violetta ecco per una ghirlandetta tu sei assai dolce e innamorato dè Violetta che in ombra d'amore negli occhi miei si subito apparisti agi pietà del cor che tu feristi che spera in te e desiando more tu Violetta in forma più che umana fo come testi dentro in la mia mente col tuo piacer che io vidi poi con atto di spirito cocente creasti speme che in parte mi sana là dove tu mi ridi dè non guardar perché a lei mi fidi ma drizza gli occhi al grande zio che marde ecco queste poesie Dante non le mette nella vita nuova sono le cosiddette poesie stravaganti che verranno riunite, riordinate col nome rime solo dai critici posteriori tornando a questo romanzo succede quindi che la donna dello schermo a un certo punto si trasferisce in un'altra città e devo dire che per l'occasione Dante scrive delle poesie così addolorate che veramente anche se poi lui nella nota che scrive sempre alle sue poesie scrive che questo dolore è simulato è difficilmente credibile che sia un sentimento così forte solo per creare uno schermo alla verità insomma e un giorno mentre lui stava andando verso la città dove questa donna abitava lo ferma un pellegrino in abiti molto modesti e questo è amore travestito da pellegrino e gli dice che non deve più avere questa donna a schermo ma trovarne un'altra e le dice anche il nome di questa donna così che Dante comincerà un'altra finta storia d'amore finta tra virgolette ecco volevo leggere questo episodio e però lo dolcissimo signore lo quale mi signoreggiava per la virtù della gentilissima donna nella mia immaginazione apparve come peregrino leggeramente vestito e di vilidrappi egli mi parea di sbigottito e guardava la terra salvo che talora li suoi occhi mi parea che si volgessero ad un fiume bello e corrente e chiarissimo lo quale esengia lungo questo cammino là dove io era a me parve che amore mi chiamasse e dicessime queste parole io vegno da quella donna la quale è stata la tua lunga difesa e so che lo suo rivenire non sarà a gran tempio e però quello cuore che io ti faccia avere a lei io lo ammeco e porta la donna la quale sarà tua difensione come questa era quindi il cuore che Dante aveva dato a quella donna adesso lo darà un'altra e nominò e nominò e nominò la me per nome sì che io la conobbi bene ma tuttavia di queste parole che ho ragionato se alcuna cosa ne dicesse dille nel modo che per loro non si discernesse lo simulato amore che tu hai mostrato a questa e ti converrà e ti converrà mostrare ad altri e dette queste parole disparvi questa mia immagine tutta subitamente e quasi cambiato nella mia vista cavalcai quel giorno pensoso molto accompagnato da molti sospiri appresso lo giorno cominciai di ciò questo sonetto lo quale comincia ecco recitiamo questo sonetto cavalcando l'altrier per un cammino pensoso nell'andare che mi sgradia trovai amore in mezzo della via in abito legger di peregrino nella sembianza mi parea meschino come avesse perduto signoria e sospirando pensoso venia per non veder la gente a capochino quando mi vide mi chiamò per nome e disse io vegno di lontana parte ov'era lo tuo cuor per mio volere e regola servir nuovo piacere allora presi di lui si gran parte che li disparve e non m'accorsi come ecco quindi adesso questa però questa seconda donna dello schermo le cose sembrano andare un po' troppo avanti e e sì quindi appresso la mia ritornata quindi Dante ritorna a Firenze mi mise a cercare di questa donna che lo mio signore mi aveva nominata nello cammino degli sospiri e a ciò che lo mio parlare sia più breve dico che in poco tempo la feci mi ha difesa tanto che troppa gente ne ragionava oltre gli limiti della cortesia onde molte fiati mi pesava duramente e per questa cagione cioè di questa soverchievole voce che parea mi infamasse viziosamente quella gentilissima la quale fu distrugitrice di tutti le vizi e regina delle virtuti passando per alcuna parte mi negò lo suo dolcissimo salutare nella quale stava tutta la mia abbiatitudine ecco evidentemente questo corteggiamento sembrava un po' troppo spinto tutti ne parlavano e Beatrice gli toglie il saluto ecco e quindi Dante si dispera ora tornando al proposito dico che poi che la mia abbiatitudine mi fu negata mi giunse tanto dolore che partito dalle genti in solinga parte andè a bagnare la terra da amarissime lacrime e poi che alquanto mi fu sollenato questo lacrimare misimi nella mia camera là ovvio poteva lamentarmi senza essere udito e qui richiamando misericordia alla donna della cortesia dicendo amore aiutalo tuo fedele ma addormentai come un pargoletto battuto lacrimando ed ecco di nuovo in sogno perché amore gli compare o in sogno o in una visione e di nuovo invece vestito di una bianca veste non più come un peregrino e gli parla in latino e gli dice guarda tempus estus preteritant pretermitantur simulacra nostra è tempo che noi facciamo a meno di queste donne dello schermo e Dante gli dice sì di parlargli in di parlargli in italiano e in italiano gli dirà amore voglio che tu dichi certe parole per rima nelle quali tu comprendi la forza che io tengo sopra te per lei cioè io voglio che ormai tu faccia capire che il tuo amore è solo per Beatrice e che tu faccia capire che tu fosti suo tostamente dalla puerizia che quindi tu fosti suo di Beatrice dall'età di nove anni dal primo incontro di cui abbiamo già parlato ecco ma ecco terminiamo questo episodio con l'episodio del gabbo perché un amico pensando di fare cose gradite a Dante lo porta a un pranzo di matrimonio e ma così facendo rischia che Dante muoia dal dal batticuore perché sente nelle vicinanze la presenza di Beatrice e allora cosa succede che lei con le altre donne accortesi di questo malessere procurato dall'amore ride di lui questo è il famoso episodio del gabbo appresso la battaglia delle diversi pensieri avvenne che questa gentilissima venne in parte o e molte donne gentili erano adunate alla qual parte io fui condotto per amica persona credendosi fare a me grande piacere in quanto mi menava là dove tante donne mostravano le loro bellezze onde io quasi non sappiendo a che io fossi menato fidandomi nella persona alla quale uno suo amico all'estremità della vita condotto avea dissi a lui perché semono venute a queste donne allora quelli mi disse per fare sì che le siano degnamente serviti e lo vero è che adunate qui vi erano alla compagnia di una gentile donna che di sposata era lo giorno e però secondo l'usanza della sopradetta città deconvenia che le facessero compagnia nel primo sedere alla mensa che facea nella magione del suo novello sposo sì che io credendomi far piacere di questo amico propose di stare al servizio delle donne nella sua compagnia e nel fine del mio proponimento mi parve sentire uno mirabile tremone incominciare nel mio petto dalla sinistra parte e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo allora dico che io poggiare la mia persona simulatamente ad una pintura alla quale circondava questa magione e temendo non altro si fosse accorto dello mio tremare leva gli occhi e mirando le donne vidi tra loro la gentilissima Beatrice io dico che molte di queste donne accorgendosi della mia trasfigurazione si cominciarono a meravigliare ragionando si gabbavano di me con questa gentilissima onde l'ongannata amico di buona fede mi prese per la mano e traendomi fuori della veduta di queste donne si mi domandò che io avesse allora io riposata alquanto e resurressiti gli spiriti morti miei e li scacciati divenuto alle loro possessioni dissi a questo mio amico queste parole io tennili i piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può dire più per intendimento di ritornare cioè sono stato sul punto di morire e partitomi da lui mi ritornai nella camera delle lacrime nella quale piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea se questa donna sapesse la mia condizione io non credo che così gabbasse la mia persona anzi credo che molta pietate ne le verrebbe quindi qui chiudiamo ancora questo secondo episodio nel prossimo ci saranno riferimento alle poesie della tanto gentile e tanto onesta donne che avete intelletto d'amore e la morte di Beatrice e ancora l'incontro con la donna gentile perché ci sarà ancora un'altra donna alla fine di questa vita nuova e ancora un'altra donna